Buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco della città, il gonfalone della città di Firenze, medaglia d'oro della Resistenza e un saluto naturalmente a tutte le autorità qui presenti. Ho il dovere di scusare il ministro degli esteri che non è riuscito ad atterrare per un problema di clima e deve essere tra qualche ora in Lussemburgo, quindi gli abbiamo suggerito di andare in Lussemburgo per un importante impegno di natura internazionale. Il viceministro Giro ne farà le veci in modo egregio come sempre. Saluto la ministra della pubblica istruzione, il viceministro delle infrastrutture, il sottosegretario della pubblica istruzione, naturalmente la presidente della RAI e tutte le autorità. A cominciare da Andrea Riccardi che è qualcosa di più di un'autorità, non soltanto nella sua veste di presidente ma appunto di riferimento di questa grande battaglia che vogliamo fare insieme. Devo anche dire subito, così evitiamo le polemiche che altrimenti partono, che il riferimento del viceministro Giro a quel sì era una dotta citazione del trentatreesimo canto dell'inferno, non c'entra niente con l'attualità, le genti del bel paese dove il sì suona, era questa l'espressione, ma si riferisce alla lingua dui e alla lingua doc, quindi a tutta una discussione che non apriamo qui adesso. Così la mettiamo a verbale per le polemiche. C'è un unico problema che con questa tua citazione, caro Mario, adesso mi metti in difficoltà perché vado a memoria, i miei studi di Dante sono un po' arrugginiti, ma se non sbaglio è la stessa frase, la stessa terzina in cui dice hai Pisa vituperio delle genti. E dovendo io partire per l'America ora dall'aeroporto di Pisa tra qualche mezz'ora siamo entrati in un giro di gaff, o meglio di errori, non possiamo utilizzare parole non italiane, abbastanza imbarazzante. Scherzi a parte, questa è una battaglia di tutti. La battaglia per l'italiano è una battaglia di tutti e dobbiamo vincerla insieme. Abbiamo messo un piccolo intervento, stavo per dire un CIP, ma non possiamo dire un CIP. Abbiamo messo un intervento in legge di stabilità a favore delle scuole di italiano all'estero e di tutti coloro i quali studiano l'italiano all'estero. È strepitoso il numero delle persone che può avvicinarsi alla nostra lingua, ma parliamoci chiaramente. È un numero molto piccolo rispetto agli altri. I paragoni con i francesi non reggono, lo sapete meglio di me. Quando tu hai un Paese in cui il linguaggio, la lingua è arrivato praticamente ovunque in virtù della colonizzazione e della presenza sparsa in tutto il mondo, in tutti i continenti, devi fare i conti con una realtà totalmente diversa, quella italiana. Una realtà nella quale noi siamo 60 milioni di persone e se è vero come è vero che oggi due milioni di studenti si avvicinano all'italiano, che in Cina ci sono 54 applicazioni soltanto nelle ultime settimane per studiare l'italiano, è anche vero che questo percorso non può essere giocato nella logica dei grandi numeri come possono permettersi le altre lingue, lo spagnolo, il francese senza contare l'inglese. Dove sta allora, e termino subito, la chiave di possibile sviluppo e di possibile volano per ciascuno di noi, per questa scommessa? In un grande investimento sull'Italia nel mondo. Se facciamo i conti vediamo che è vero che noi siamo soltanto 60 milioni. Ma è anche vero che nella classifica, nella graduatoria dei marchi commerciali l'italiano è la seconda lingua utilizzata. E perché questo? Da un lato questo è paradossalmente un problema. Si definisce con un'espressione italiana anche ciò che italiano non è. Ne facciamo tutti i giorni le spese dal punto di vista economico nel campo agroalimentare. Prodotti che hanno il nome che suona italiano hanno un mercato potenziale di circa 90-92 miliardi di euro. I prodotti veramente italiani hanno un valore di 36.8 miliardi di euro, l'export italiano. Capite che c'è una differenza impressionante. È il parmesan contro il parmigiano. Quante volte abbiamo fatto questi esempi? Ma accanto a questo c'è anche il segno di una evocazione di bello che l'Italia esprime e che è elemento positivo dal punto di vista commerciale. Abbiamo un problema ma abbiamo una potenzialità. È lo stesso modo di guardare all'espressione crisi nel suo senso greco ma anche nell'idioma cinese che la rappresenta. Crisi come elemento di difficoltà è elemento di opportunità. L'Italia è qui. È evocata da tutti e parlata da pochi. È considerata meravigliosa ma poi fatica, come il celebre airone di Baudelaire, quando viene costretta a camminare. Le grandi ali che la fanno volare e che la fanno ammirare da terra sono un elemento di inciampo. Qui sta il punto della scommessa italiana dei prossimi anni. E allora su questo vorrei chiedere a tutti e a ciascuno un aiuto. Noi abbiamo messo dei denari per le scuole di italiano all'estero. Bene. Ma ciò che serve oggi è una gigantesca scommessa culturale sul made in Italy e sulla qualità dell'Italia nel mondo. questo è ciò che dobbiamo fare. È il racconto di un paese diverso che non nega le difficoltà al proprio interno perché altrimenti già immagino l'accusa. Ecco la narrazione che Renzi propone per evitare di affrontare i problemi reali. No. Non nega i problemi reali ma tenta di affrontarli per quelli che sono nella costruzione di una cornice culturale internazionale in cui l'Italia sia nelle condizioni di essere elemento di attrazione, elemento di richiamo, elemento di bellezza. Insomma se vogliamo far sì che l'italiano sia studiato non abbiamo bisogno soltanto della letteratura italiana che pure è strepitosa. Possiamo dirlo qua a Firenze dove in tanti sono nati tra i grandi della letteratura e chi non c'è nato ha comunque avuto il bisogno, ha avvertito l'esigenza, utilizziamo la solita immagine, ma è quella che funziona di più del risciacquare i panni in arno che il Manzoni ebbe modo di esprimere. Ma questo tipo di letteratura deve essere e di scommessa sulla cultura italiana deve essere inserita in una cornice che tenga insieme, come opportunamente state facendo, le grandi aziende, le grandi realtà cinematografiche, le grandi realtà della cultura, le grandi realtà del comunicazione globale. Per tutti questi motivi, caro Andrea e cari tutti voi, il Governo c'è. Tocca innanzitutto alla RAI, la Presidente Maggioni è qua anche non solo per la sua veste di oggi ma più volte a livello internazionale, ha avuto modo di toccare con mano questa possibilità che noi abbiamo. Tocca innanzitutto alla RAI, certo come principale player educativo e culturale del Paese, ma tocca a ciascuno di noi. Il mondo ha bisogno di bellezza, il mondo ha bisogno di qualità, il mondo chiama l'Italia. Bisogna smetterla con l'atteggiamento rassegnato per cui la globalizzazione è un problema, la globalizzazione è la più grande opportunità che noi abbiamo. la nostra scommessa deve essere quella di essere operativi e concreti. Dunque le prime risorse, i primi denari ci sono, spendeteli bene. È un po' il senso anche di questa legge di bilancio di quest'anno, mettere in condizione chi ci vuole provare di farcela. Contemporaneamente noi però andiamo a guardare al futuro con lo stesso sguardo innamorato sul nostro Paese, che da noi c'è spesso, ma non sempre. Io sto partendo per gli Stati Uniti perché domani il nostro Paese sarà l'ospite dell'ultima cena di Stato del Presidente Obama. C'è un che di simbolico in questo, non è un fatto personale o tra governi. È il riconoscimento che viene dal nostro amato, principale alleato degli Stati Uniti d'America di quanto può essere forte un'amicizia e quanto può essere forte un rapporto. Se ci pensate, tra le tante cose che ha fatto l'italiano c'è anche quella di dare il nome all'America. Quando nelle scuole da sindaco di Firenze andavo dai bambini di Peretola, che è un piccolo borgo al confine, e raccontavo loro che un loro concittadino, anzi compaesano, Amerigo Vespucci, era l'uomo che aveva dato il nome alla grande America, mi guardavano come un matto. Uno mi disse una volta, ma come? Non è che si chiamava Amerigo perché era tornato dall'America? No, è il contrario. L'italiano ha dato quel nome. Felici noi se saremo capaci di far sì che l'elemento fertile dell'italiano non sia rivolto soltanto al passato, ma sia rivolto anche e soprattutto al futuro. Spero che tutti possano avere la forza e l'energia per poter confermare questo grande impegno e da parte del Governo il massimo sostegno a tutti quelli, comunque la pensino, caro Mario, abbiano voglia di dire a tutti e a ciascuno che il futuro dell'italiano non è soltanto nel ricordo o non la memoria, ma è nella lingua viva e nel presente. In bocca al lupo, viva Fiorenza, viva l'Italia. Grazie.